Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su Ottanta Passione. Iga, 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 diciassette volte, ripetetelo con me, perché la diciassettesima vittoria consecutiva, che significa vincere il Master 1000 di Miami, subito dopo quello di Indian Wells, quindi Iga, giocatrice meravigliosa che il 31 di maggio compirà 21 anni, non solo adesso è numero uno del mondo, ma credo sia la quarta giocatrice di sempre ad effettuare il Sunshine Double, la più giovane in assoluto perché Steffi Graf ci riuscì nel 94 e nel 96, King Kleister nel 2005 e in ultimo vittoria a Zarenka nel 2016. Una finale completamente a senso unico per la campionessa, la numero uno del mondo, che ha praticamente dominato dall'inizio alla fine, in un'ora e diciannove ha avuto la meglio di Naomi Osaka col punteggio di 6-4-6-0. Quello che davvero impressiona è il fatto che non sia mai andata ad affrontare una palla break. Comunque Naomi che nel corso del torneo ha sicuramente migliorato la sua prestazione con questo fondamentale, credo nell'ultimo incontro vinto contro Belinda Bencic in semifinale avesse totalizzato la bellezza di 18 o 19 ace e quindi sono strafelice perché comunque, non so per chi mi segue spesso su questo canale, se il mio giocatore nel tennis maschile preferito è Rafa, nel femminile Iga, una giocatrice che mi ha fatto innamorare di lei da quella vittoria nel 2020 al Roland Garros, una vittoria incredibile, una vittoria inaspettata. Combinazione, quell'anno vinsero lei e Rafa e soprattutto lei che adora tantissimo Rafa, ci ha parlato anche un paio di volte, si sono anche allenati, dice di avere tantissima ammirazione per il campione spagnolo e mi ricordo benissimo che anche lei era in tribuna sulla Road Lever Arena a gustarsi la finale dell'Australian Open contro Daniel Medvedev e soprattutto mi ricordo la sua espressione di gioia quando Rafa riuscì a breccare Daniel nel quinto set. Che cosa altro posso aggiungere? Una giocatrice che credo proprio sia cambiata mentalmente perché ha vinto il torneo di Doha, poi Indian Wells e Miami, una giocatrice che oramai cerca sempre più di migliorare tutti i colpi, molto aggressiva in risposta. Lei stessa che ha ammesso e ha detto quando un giocatore è in difficoltà deve riuscire a fare affidamento al proprio servizio e se credo che l'anno scorso proprio il suo tallone di Achille fosse stato il suo servizio, un servizio che era molto attaccabile soprattutto sulla seconda. Adesso ha messo a posto questo colpo e davvero vedo un futuro meraviglioso davanti a lei. Noi gliela gufiamo perché sentivo anche i commentatori tutti che dicevano che oramai dominerà a destra e a manca. Arriva soprattutto adesso la stagione sulla terra abbattuta, superficie che lei adora, però si è dimostrata molto molto brava anche sul cemento. Come simpaticamente l'anno scorso aveva detto forse ha bisogno un pochettino di ripetizioni per quanto riguarda la modalità di gioco sull'erba. Infatti l'anno scorso credo che si sia allenata anche un paio di volte con Andy Murray, ma se consideriamo che lei ha soltanto 20 anni, ne farà 21 il 31 di maggio. Questa è anche un'altra cosa che ha in comune con Rafa. Praticamente compie gli anni durante il Roland Garros. Lei il 31 di maggio, Rafa il 3 giugno. È incredibile, è fantastico. Forse se fosse stata anche un pochettino più grande, chi lo sa, Rafa e Iga si sarebbero potuti sposare. Ma adesso non voglio fare nessuna tipologia di speculazione, Rafa è felicissimo con la sua sisca Maria e quindi lasciamolo in pace. Adesso anzi, soprattutto Rafa sta recuperando dall'infortunio al costato. Il suo medico di fiducia è molto fiducioso, scusate il gioco di parole, dice comunque sia un'infortunio che necessita del riposo, ma è lo stesso organismo che man mano va a rimarginare e a ristabilire un pochettino l'assetto come il Rafa che ci aspettiamo. Rafa che quasi sicuramente salterà Monte Carlo e anche Barcellona. Non so se lo rivediamo a Madrid. Secondo me Madrid non è un torneo nelle sue corde, quindi mi auguro di rivederlo in forma almeno a Roma. Per quanto riguarda invece Iga, giocatrice che ruba l'occhio, ma soprattutto per questa sua compostezza in campo. Ha una relazione incredibile, dice deve tantissimo alla sua mental coach che le aiuta tanto prima delle partite, anche a trovare le giuste motivazioni, a saper affrontare le difficoltà. Però in questo torneo, se già Indian Wells era andata sotto un paio di volte un 7-0, qui a Miami è stata veramente dominante e soprattutto quello che mi lascia fiducioso e speranzoso per il proseguo della stagione, ma anche per gli anni successivi, e come abbia gestito da un punto di vista emotivo l'investitura della numero uno del mondo. Lei che si è confessata, ha detto pianto quando è stato annunciato, insomma ho visto l'intervista di Barty che ha appunto annunciato il ritiro dal tennis, lei così giovanissima, 25-26 anni, che ha ammesso di essere felici in questo modo, di oramai aver dato tutto al tennis, di aver vinto tre Grand Slam, quindi uno in Australia, uno a Wimbledon e uno al Roland Garros, le mancava solo lo US Open, quindi considerando che IGA ne compirà 21, come potete vedere il tennis e lo sport del diavolo è logorante non solo fisicamente ma anche mentalmente, quindi mi auguro davvero che IGA possa continuare sempre a alimentarsi di nuove motivazioni, un orgoglio per la sua nazione, c'erano tantissimi fans e tifosi polacchi lì a Miami e a questo punto se è stato il Master 1000 di IGA, chi lo sa domani potrebbe anche essere il Master 1000 di Carlitos Alcaraz, un vero e proprio talento, sono anche impressionato per i miglioramenti che questo giovane atleta abbia fatto nel giro di un anno, se appunto maggio dell'anno scorso lui ha compiuto 18 anni sconfitto in maniera senso unico da parte di Rafa, adesso è davvero un giocatore che ha un sacco di colpi nel suo arsenale e che dimostra anche molta molta freddezza, anche molta sportività, è stato molto bello l'atteggiamento quando durante la semifinale contro Urkac ha fatto ripetere il colpo perché il giudice di sede aveva chiamato un doppio rimbalzo della pallina, quindi è un giocatore che si dimostra non solo con grande temperamento e poi mi ha fatto anche sorridere quando lui ha detto nei momenti difficoltà ricordo sempre l'insegnamento di mio nonno perché bisogna usare la cabeza, quindi la testa, il corazón, il cuore e i coiones, gli attributi. Ebbene sì, questa è la ricetta perfetta sia per Carlos che anche per Iga. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale, mi auguro domani di rilasciare un video al termine della finale maschile. Buon tennis a tutti perché una volta che terminerà Miami inizierà la stagione sulla terra battuta. Adesso vado, la cena è pronta, ci risentiamo presto. Ciao!